Ciao a tutti, io sono Roberta e io sono Paola Lei è la mia migliore amica, oggi andremo a fare insieme un videotag che si chiama La mia migliore amica mi conosce come crede Andrò a fare delle domande a Paola e vediamo se davvero mi conosce come crede Che dici, te la caverai? Ovviamente Cosa? Dopo questa parentesi di estrema cultura iniziamo con le domande Domanda numero 1 Qual è la frase che dico più spesso? Domanda numero 2 Cosa amo di più di me stessa? Gli occhi, i capelli, la bocca, il viso Brava Mi sei piaciute Terza domanda Se mi facessi un nuovo tatuaggio, quale sarebbe? Al chiave di violino perché me l'avevi detto un mese fa Ah, una buona memoria Qual è il brand di make up che preferisco? La MAC ovviamente Sì ma è troppo facile questo videotag Dovevo chiederti quanti peli o nel naso può dare Perché io non lo so Ecco, mi infiltrerò per scoprirlo Qual è il mio film preferito? High school music We're all this together Quanti figli vorrei avere? Dai, due massimo Perché due massimo Io non ti vedrei, dai Secondo te non riesco a stare dietro a tanti pargoli? No No, non ho pazienza A che ora vado a dormire? Ma quando capita, quando finisce col cellulare verso le tre circa Lei va a dormire poi Ma no, all'alba Domanda importante Qual è il lavoro dei miei sogni? Cante E poi le piacerebbe lavorare in tv sicuramente Cantiamo una canzone di Herman Meta Cambia le tue stelle Se ci provi riuscirai E ricorda che Roberta Non ti spari in faccia mai Basta Ultima domanda Non me la ricordo Ultimissima domanda Cosa mi fa innervosire? La gente non le risponde Esatto Io odio le persone che visualizzano e non rispondono Però ogni tanto sono io la prima a farlo Quindi buh Sono un po' strana E dite questa Paula mi conosce davvero? Scrivetemelo qua sotto nei commenti Se è stata brava oppure no Speriamo che questo video vi sia piaciuto Io vi mando un grande grande bacio Buona serata a tutti Se lo vedono di giorno Buona giornata a tutti Se lo vedono di pomeriggio Poveriggio Se lo vedono di nuovo proseguimento Ciao